Angelo da stasera cercavamo continuità al netto delle assenze pesanti di Monza che vanno ovviamente considerate però noi abbiamo dato continuità alla prestazione di tre giorni fa con Modena. Da metà del girone d'andata i ragazzi come approccio ci sono sempre stati dopo non significa che fai sempre il tuo lavoro migliore né che porti a casa sempre il risultato però da questo profilo qua mi sembra che la squadra un saltino di qualità l'abbia fatto parlo di approccio che è importante quello lì dopodiché c'è adesso da lavorare tecnicamente sapendo che i nostri numeri sono buoni lo dico sempre ma gli altri ce l'hanno un pochettino meglio per migliorare quei numeri buoni vuol dire che tu lavori proprio al tuo limite e quindi bisogna darci dentro l'impegno c'è e dobbiamo aumentare la consapevolezza di cosa di quando facciamo certe cose di perché le facciamo e di come dobbiamo farle bene grazie angelo